Tutti i nostri tutorial sono audio descritti. In descrizione trovi il link all'articolo su Urbolandia con l'opportunità di scaricare direttamente le applicazioni o documentazione di supporto a questo video. Modifica multitraccia. Eccoci qui. Allora, siamo ancora con Super Sound e questa volta vi facciamo vedere i video. Modificare i video. Vado a destra e vado a cercare... Modifica audio. Taglia l'audio. Unisci audio. Diviso. Cambia tonalità. Cambia voce. Convertitore da video ad audio. Modifica video. Modifica video. Convertitore da video ad audio. Convertitore da video ad audio in pratica ci fa estrapolare l'audio. davvero molto semplice. Doppio tap. Dan BTN. Oscurato. Pulsante. Vado a destra. Back. Pulsante. Forse indietro. E allora lui si apre l'album foto e va a scegliere il video. Noi dobbiamo capire quale video scegliere perché non potendo vederlo vuoi sopra e non li riconosce, li riconosce e ci dice solo il tempo, la durata. Quindi basta conoscere il video che vogliamo, la durata che ha e soprattutto metterci all'inizio o alla fine. Vado a destra e cerco un video che dura due minuti e dodici secondi. pulsante. Zero. Ventitré. Pulsante. Due. Dodici. Eccolo qui. Due dodici. Da un doppio tap. Due. Dodici. È selezionato. Uno. Pulsante. È selezionato uno. Andiamo a sinistra. Zero. Ventitré. Pulsante. Back. Pulsante. Forse. Dan BTN. Inserimento. Pulsante. Inserimento. Tutto a sinistra. Abbiamo il pulsante inserimento. Doppio tap. Da. Back. Pulsante. Forse. Indietro. Andiamo a destra. Selezionati 133,0s. Zero. Barra. V2 a left eye. V2 a right. BTN. Play. Pause. Salva. Pulsante. Allora qui possiamo salvarlo e già ci salva l'audio. Però dobbiamo essere certi che sia quello giusto. BTN. Play. Pausa. Pulsante. Ascoltiamolo un attimo. È selezionato. BTN. C'è con chi parla? Scusa. Poi. Ecco. È proprio quello di mia nipotina Gaia che gioca con il mio Apple Watch. Scusa. Puoi ripetere. Caratteri. Mi massacra sempre l'Apple Watch. Guardala. Chiudiamo. Con l'attenta. BTN. Play. Pausa. Ok. Vado a destra e lo salvo e quindi estrappolo solo l'audio da questo video. Salva. Pulsante. Doppio tappo. Save quality plus pulsante. Vado a destra. Salvare. Metadato. IMG trattino basso 0059. Campo di testo. Ok. Questo è il, diciamo, il nome che mi dà lui. Campo di testo. Volendo do un doppio tappo potrei modificargli il titolo. Io lascio quello, poi lo posso modificare in un secondo momento quando è come vuole. Flak. Ce lo salva in Flak. Però questo audio qui, anche se è salvato in Flak, poi sapete che possiamo convertirlo in mp3 in tutto quello che vogliamo. Andiamo adesso. Qualità. Standard. Alta. Scegliamo la qualità. Scegliamo la qualità. E salviamo. Doppio tappo. Edit finish rington. Pulsante. Ok. Adesso da qui possiamo andare ancora a destra. Back. Puls. IMG trattino 2. 13. 9.0 MB. Flak. More. Puls. Condividere. Pulsante. Possiamo condividerlo. Ora noi l'abbiamo già salvato ed è salvato nello studio, però qui possiamo condividerlo. Quindi doppio tappo e condividiamo. Con IMG trattino basso 0059. Registrazione audio. Chiudi. Airdrop. Messaggi. Mail. Pulsante. Lo salvo dove voglio. Lo vado a salvare su file. WhatsApp. F. No. Drop. Scania. Ictel. Kindle. Pulsante. Copia. Nuova. Aggiungi. Salva su. Trascrive. Salva su file. pulsante. Eccolo qui. Doppio tappo. Icloud drive. Pulsante indietro. Icloud indietro. E vado a cercare la sua cartella. Icloud. Altro. Salva. Cerca. Avvia dettatura. Imovie. A prova. A salute serve. A super sound. Cartella. Sette elementi. Audio di Gaia che avvia dettatura. Cerca. Campo di ricerca. Salva. Pulsante. Doppio tappo. Edit. Finish. Rington. Pulsante. Ok. Finito. Abbiamo già quello che è salvato il nostro audio dal video. E adesso andiamo a vedere invece come modificare un video. Chiudiamo. Modifica multitraccia. Bene. Adesso invece andiamo a modificare il video. Modifica audio. Tagliala. Unisci. Diviso. Ormai l'avete imparato a memoria questa home. Cambia tu. Cambia vuoto. Converti tu. Modifica video. Modifica video. Diamogli un doppio tappo. Back. Pulsante. Anche qui lui cercherà un video. Apprendo l'album foto. Noi cercheremo sempre lo stesso video. Perché a quel video lì gli aggiungeremo un audio di sottofondo. 0. 23. 2. 12. Eccolo qui. 2. 12. Back. Pulsante. Back. Pulsante. Forse. Indietro. Back. Andiamo a destra noi. Edito menu BTN. Play. Pausa. Pulsante. Ok. Qui per ascoltare il video. Ma sappiamo che è quello perché l'abbiamo appena fatto. 0%. Regolabile. 0. Barra 2. Mescolare. Ok. Mescolare. Attenzione. Vediamo ancora un attimo a destra cosa ci dice. Cambia voce. Qui possiamo cambiare voce. Possiamo modificare. Dissolvenza in entrata. Dissolvenza in entrata. Dissolvenza in uscita. Dissolvenza in uscita. Dissolvenza. Cambia voce. Mescolare. Ok. Mescolare. Allora. Andiamo a sinistra. Vediamo cosa c'è. 0. Barra 2. 0%. Edito menu BTN. Play. Pausa. Pulsante. Qui possiamo ascoltare. Diciamo quello che abbiamo in servizio. 0. Barra mescolare. Cambia voce. Cambiamo voce. Dissolvenza in entrata. Dissolvenza in volume. 100% regolabile. Scegli audio. Pulsante. Ecco qui. Dobbiamo scegliere l'audio. 100% regolabile. Questo volume qui che abbiamo appena passato è il volume del video. Dobbiamo lasciarlo al massimo. Scegli audio. Pulsante. Qui scegliamo l'audio. Ti ammette di sottofondo. Gli diamo un doppio tap. Mescolare. Back. Pulsante. Forse. Indietro. Invece vado a destra. Importato. Video. Studio. Apple Music. Si apre il mio studio ovviamente dove c'è. Musica online. Pulsante. Base chitarra. 3. Base chitarra. 2,9 megabyte. M4A. Ok. Uso questo. La base chitarra. Back. Pulsante. Forse. Indietro. Andiamo a sinistra. Back. Pulsante. Forse. Indietro. Andiamo a destra. Edito menu BTN. Play. Pausa. Pulsante. Qui per poterlo ascoltare. Però prima di ascoltare. 0% 0 barra 2 interruttore attivo. Ecco qui attenzione. Interruttore attivo di cosa? Ripetizione in loop. Ripetizione in loop. Se ci serve bene. Interruttore attivo. Non attivo. Perché a volte magari il video dura tanto e noi vogliamo mettere ripetizione in loop dell'audio che gli mettiamo. Magari il video dura 20 minuti e noi abbiamo un audio di 5. Mettiamo in loop e finisce e ricomincia. Ripetizione in loop. Qui io l'ho tolto invece perché l'audio e il video è breve. Posizione di partenza. Ok. Qui possiamo decidere se farlo partire subito all'inizio insieme al video o dopo. Ecco la percentuale. 0. 0% regolabile. Qui regoliamo la percentuale di partenza. Avanzamento. 0%. Anche qui. Volume musica. Ecco qui invece. Volume musica. Questo è importante. 100%. Regolabile. Ovviamente se è solo un sottofondo dobbiamo tenerlo basso. Quindi regolabile. Flick verso il basso. Portiamo a 20%. 90%. 80%. 70%. 60%. 50%. 40%. 30%. 20%. Ok. Credo che va bene. Guarda adesso. Mescolare. Cambia voce. Volendo mescolare possiamo aggiungere altri video. Dissolvenza in entra. Dissolvenza in uscita. Sempre anche qui. Dissolvenza. 100%. Scegli audio. Pulsante. Base chitarra. Questa è la base chitarra che abbiamo scelto. Editor BTN. Annulla. Pulsante. Conferma. Pulsante. E qui confermiamo la base chitarra. Più tap. Conferma. BTN. Salva condividi. Pulsante. Ok. In altra sinistra. Salva condividi. Andiamo a destra. Back. Pulsante. Forse. Indietro. Andiamo indietro. Edito menu BTN. Play. Pausa. Pulsante. Qui possiamo ascoltarlo già. Andiamo in un doppio tap. E' selezionato. Edito menu BTN. Play. Pausa. Sentite che c'è il video di mia nipotina che gioca con il mio Apple Watch. Ogni volta devo riconfigurarla. E abbiamo aggiunto la musichetta. Che si fermerà e si taglierà. Adesso lo fermo. Edito menu BTN. Play. Pausa. Quindi abbiamo aggiunto una chitarra di sottofondo. La percentuale la potete scegliere come volete. Avete visto. E quindi possiamo diciamo finire qui perché taglia lui stesso. La lunghezza del video taglia l'audio. Quindi non abbiamo neanche da prenderci il problema di tagliarlo. A fine è molto facile. Andiamo a destra. 18% 0. Mescolare. Cambia voce. Possiamo occorre comunque modificare. Dissolvenza in entrata. Però abbiamo visto che all'inizio. Edito menu BTN. Edito menu BTN. Pulsante BTN. Salva condividi. Pulsante. Doppio tap. Mescolare. Img trattino basso 0 0 5 2 13. Setback. Pulsante. Img trattino basso 0 0 5 2 13. 71.1 megabyte. Qui c'è. More. Pulsante. Tutti i valori. More. Qui possiamo cambiargli diciamo il titolo. Modificarlo. Condividere. Pulsante. Qui possiamo direttamente condividere. Cosa facciamo subito. Back. Pulsante. Forse. img trattino basso 0 0 5 video. Chiudi. Pulsante. Airdrop. Pulsante. Messaggi. Mail. Whatsapp. Pulsante. Lo vado a salvare. Lo vado a salvare su file come gli altri. Ft. Note. Face. Drop. Amazon. Sky. Salva su file. Pulsante. Salva su file. Sfoglia. iCloud Drive. A Super Sound. Altro. Puls. Salva. Pulsante. Salviamo. Sfoglia. Back. Pulsante. Forse. Indietro. Bene. Salvato. sulla nostra cartella di Super Sound. Vete visto quanto è facile. Da Sergio. E Fuego. Un saluto a tutti. E buon divertimento con Super Sound. In descrizione trovi il link all'articolo su Urbolandia con l'opportunità di scaricare direttamente le applicazioni o documentazione di supporto a questo video. Iscriviti qui di seguito sul nostro canale per essere avvisato in tempo utile quando pubblichiamo nuovi contributi. e e e Grazie a tutti.